Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare gli ultimi due oggetti che ci sono stati forniti dalla nostra collaborazione con la Razer Italia che io ringrazio immensamente di cuore ed è sempre un piacere e un onore disumano poter collaborare con voi. Ci sono state fornite le ultime uscite che sono cuffie e microfono, anche staccabile che ora poi vi faccio vedere anche da vicino e una prova sul campo, che sono le Razer Kraken V3 nell'edizione che vedete qui davanti e qui alla nostra destra una scheda d'acquisizione Rips OX che attacchi sia USB 3.0 che HDMI e serve per fare le vostre live cappate in 30 fps ma in risoluzione fino a 4k. Quindi è una classica scheda d'acquisizione spettacolare che attaccata magari a una Canon o comunque una macchina, un'apparecchiatura che abbia un attacco HDMI ve la trasforma direttamente in 4k e vi fa fare delle stream al massimo della risoluzione possibile. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Eccolo qua, l'ultimo modello delle Kraken, appunto la V3 che poi vi farò vedere meglio ora direttamente la seconda parte del video sarà al computer perché ci sto stremmando regolarmente tutte le sere che hanno tra l'altro, bellissimo poi il logo, la funzione croma, qui ovviamente per illuminarsi a LED di vari colori, quindi c'è anche il settaggio che preferite, sono un po' più piccole perché l'avevo vista rispetto alle Kraken V2 queste le hanno fatte un pochino più piccoline e meno male perché le altre erano troppe padiglioni, secondo me erano un po' troppo grandi e anche mettendoseli in testa sono veramente ergonomiche e vi assicuro che il tipo di audio che poi dopo ne deriva è veramente pompato ai massimi livelli. Hanno qua dietro una rotellina che serve direttamente per alzare ed abbassare il volume, si parla ovviamente soltanto del volume che sentite voi in cuffia, quindi se volete toccare il microfono quello c'è i settaggi col suo programma che vi faccio vedere a breve e un pulsante per attivare o disattivare cliccando, molto comodo tra l'altro ci arrivate tranquillamente col pollice per disattivare il microfono. Microfono bellino, professionale, scherma bene anche suoni esterni che ci sono, magari ci potrebbero essere nella stanza o intorno per casa e poi microfono che può essere anche staccato direttamente, c'è al suo aggancio quindi si possono trasformare anche che magari nelle versioni precedenti non c'era, si possono trasformare direttamente in cuffie ed è un microfono, a parte che col pompon io li preferisco 100.000 volte, regolabile quindi non è nemmeno un pezzo di plastica fisso ma ve lo potete regolare più vicino o più lontano dalla bocca ed sono veramente molto comode devo dire la verità, come cuffie hanno l'attacco unicamente USB come vedete, non hanno l'attacco con i jack quindi non c'è la possibilità di attaccarle sia USB o direttamente con i jack queste si attaccano solo USB e hanno il programma loro direttamente che installate al momento che poi le andate a collegare che tra l'altro è nella memoria della cuffia, non c'è cd, non c'è niente, vai sul sito e scarica collegatevi, installa il programma direttamente che è già installato nelle cuffie e potete settare tutto, alti, bassi, frusci, vari effetti, microfono ovviamente più o meno sensibile o anche vari effetti che potrebbe darvi sulla voce e sono secondo me un tipo di cuffie eccellenti poi ragazzi, senza offesa, parliamo della Razer i numeri 1 a livello di attrezzature non soltanto per lo streaming ma anche per il gioco e soprattutto per i giochi competitivi quindi anche andando a giocare su giochi competitivi serve comunque avere un buon microfono, delle buone cuffie, una buona tastiera, un buon mouse e meglio della Razer, veramente nessuno ora a breve vi faccio vedere nella seconda parte del video direttamente un test vi faccio vedere dal computer come si sente e vi faccio anche un pochino vedere qual è il programma insomma tutti quanti gli effetti che si possono dare e quant'altro mentre quest'altro ve l'ho fatto vedere ora, ve l'ho presentato ma ve lo voglio far vedere meglio in un secondo video ora ve lo presento e basta che è il Razer Rips OX che è una scheda di acquisizione e con questa scheda di acquisizione abbiamo all'interno il librettino ovviamente con tutte quante le istruzioni e poi la scheda di acquisizione vera e propria è piccolina che è questa qua, piccola vedete, con un attacco USB che andate ad attaccare direttamente al vostro computer e di qua all'attacco HDMI che andate a collegare poi alla vostra videocamera ma di questa roba ci faccio un video a parte non ve ne parlo oggi ed è un prodotto veramente interessante perché vi permette di streammare in 30 fps non di più però in 4K vi dà una risoluzione assurda e disumana e anche lì vi voglio fare direttamente una prova sul campo passiamo alla seconda parte allora, andando poi a testare direttamente sul campo le cuffie tra l'altro vedete tutta quanta la grafica che ho montato tutto intorno che è quella di Twitch tra l'altro molto bellina faccio complimenti a mia moglie come vi dicevo le cuffie, queste Kraken V3 della Razer sono veramente molto ergonomiche padiglioni auricolari stanno anche bene cioè non danno fastidio sono un pochino più piccole rispetto a quelle precedenti alla versione precedente alle V2 cosa che io preferisco perché cuffioni troppo grandi mi sembra anche che ovattino un porzone e poi mi danno fastidio personalmente a portarle in testa stanno veramente bene sono regolabili qua giù dietro ve l'ho fatto vedere inizialmente in fase di presentazione del prodotto c'hanno la rotella qua dietro per regolare l'audio e poi c'hanno il pulsantino per accendere e spengere il microfono che si va a staccare ed è questo qui che vedete con il pompon sentite anche la qualità della voce che è molto buona e le cuffie poi fondamentalmente comunque sono un modello da gaming al massimo livello e lo sapete la Razer fa sempre pezzi appunto del genere vi faccio vedere un'altra cosa questo qui che vedete è il suo programma che si chiama Razer Synapse che viene installato direttamente dalla memoria delle cuffie viene installato sul computer la prima volta che l'andate ad attaccare e vi ricordo che c'hanno unicamente un attacco USB quindi non c'hanno il classico jack audio per il microfono e le cuffie ma un cavo USB direttamente vedete che c'hanno tutte quante le impostazioni si può andare anche a prendere i moduli croma ad esempio per andare a cambiare i colori delle cuffie mandare dei feedback nel caso anche acquistare o mandare comunicazione per bug direttamente a Razer Support sempre da questa schermata principale andiamo a cliccare sul device che sono le Kraken V3 clicchiamo qui ovviamente c'è il mixer il volume e tutto quanto mentre la regolazione del suono mentre andando qua su in cima andiamo nella parte mixer dove ovviamente si possono direzionare tutti quanti i suoni per settarli al meglio in più l'applicazione si può anche autoconfigurare a seconda del gioco che scegliete ad esempio qui c'ho un po' di titoli andando nella parte microfono cioè ci sono tutti quanti dei tocchi che vi faccio vedere e gli enhancement perché io ora sto streamando praticamente a livello di enhancement in modalità game che sono dei predefiniti dei preset che potete cambiare a mano però potrei andare anche direttamente sul default potrei andare sul movie o potrei andare sul classico ascolto della musica che alza magari certi tipi di bassi e cose del genere per andare a favorire appunto un ascolto più pulito e più omogeneo possiamo andare anche poi dopo su game mentre invece andando direttamente su microfono si può fare un boost al microfono si può andare in un'impostazione default classica impostazione che ti alza un po' più la voce da conferenza oppure custom me la metto come mi pare a me io uso sempre a livello di broadcast perché quello a livello di broadcast va meglio per le live stream e cose del genere che poi questi prodotti anche per la maggior parte sono fatti per quelle cose lì voice gate e tutti quanti i filtri per riduzione di suono, noise e cose del genere che potete andare a impostare più le luci ovviamente per configurare le luci e tutto quanto in conclusione queste Razer Kraken V3 sono quello che vi potevate aspettare e se vi sono piaciute le due qui veramente vi innamorerete prezzo competitivo roba assolutamente da competizione da gaming ma a livello estremo perché comunque hanno una qualità di audio veramente spettacolare il microfono è molto comodo poi ve lo potete tranquillamente andare un po' a direzionare come preferite ed è il classico prodotto insomma eccellente io ringrazio ancora una volta Razer per averci offerto un campione di queste cuffie e ragazzi se volete qualcosa da gaming ma anche veramente competitivo e al massimo del dettaglio questo secondo me è il top della gamma ciao ragazzi alla prossima